Mascherina obbligatoria a distanza di un metro e più messe per evitare assembramenti. È stato firmato il protocollo tra Governo e Conferenza Episcopale Italiana che permetterà la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. Il documento che entrerà in vigore lunedì 18 maggio, detta le misure di sicurezza da adottare. L'accesso alla Chiesa resta contingentato e regolato da volontari o collaboratori che dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale e vigilare sul numero massimo di presenze consentite. Non potranno entrare le persone con una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo o comunque con sintomi influenzali e respiratori. Inoltre, come già previsto in fase di lockdown, le acqua santiere dovranno rimanere vuote. Le nostre chiese adesso le stiamo dividendo per 4 metri quadrati in modo che avremo il numero esatto delle persone che entreranno. Ci saranno delle persone che a distanza permetteranno alle persone di entrare. Teniamo conto che le chiese dovranno anche essere igienizzate quindi probabilmente ci sarà un'alternanza per le parrocchie che possono tra messe all'aperto e messe al chiuso. Cresime invece rimandate? Le cresime rimandate mentre per quanto riguarda i matrimoni e i battesimi dopo il 18, tenendo conto sempre del numero delle persone che un'aula assembleare può accogliere, potranno essere celebrati. Stessa cosa per l'unzione degli infermi e i funerali. La confessione invece dovrà avvenire in una stanza aerata che permetta il distanziamento e al tempo stesso la riservatezza richiesta dal sacramento. Sì all'organista in chiesa, ma per il momento no al coro, all'uso di libri per i canti e ad altri fogli. Inoltre, durante la celebrazione non si potranno raccogliere le offerte. Dovremmo evitare tutti i contatti fisici, quindi le offerte, per esempio, che per una parrocchia sono importanti perché anche noi viviamo di offerte, saranno sempre raccolte però con dei cesti all'ingresso o all'uscita della chiesa, ognuno potrà farli. Un altro aspetto che mi sembra anche molto importante è quello dello scambio della pace. Faremo un inchino, faremo un sorriso a chi abbiamo vicino. E un altro aspetto ancora importante è la comunione. Ecco, la comunione verrà data dal sacerdote o dal diacono, dal ministro. Le persone, indicativamente, sarebbe bene che non si muovano dal loro posto. Il sacerdote avrà igienizzato le sue mani e avrà portato l'eucardistia che lascerà cadere sulla mano e non in bocca della persona. Ecco, tutto questo in attesa di poterci riabbracciare, rincontrare come tutti. E il 18 sarà anche una ricorrenza importante? Eh sì, perché il 18 maggio 1920 nasceva Giovanni Paolo II, quello che nel 1985 è iniziato le giornate mondiali della gioventù. Quindi mi sembra un dono di San Giovanni Paolo II che proprio il 18 noi riprendiamo a celebrare avendo queste attenzioni. E tutti quelli che come ne ho quasi 60 anni, hanno fatto tante GMG, probabilmente riconosceranno nelle messe all'aperto e in quello che ci verrà detto anche dai volontari, semplicemente un modo per partecipare più ordinato.